Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo episodio di Sherlock Holmes. Allora, dobbiamo trovare la monografia Secondo me la monografia sugli avvelenatori, sui veleni, è Corri è nella stanza di Watts, è di... di cosa? Aha Cos'è sta di zizio? Non so cosa sia E dov'era la sua... Ehi monografia? Where are you? Monografia? Monografia? Ah No, aspetta Eh ma gli mortaggi di Pippo Ah, ecco Perchè c'ho la mia scrivania? Ehm... Tedesco Avvelenamento e tentato avvelenamento Guarda Gigi, un botto di roba Vai, tagliala Holmes Per questo Anse Schillman Anse Schillman Anse Schillman Ahun è qui a libertà? no non è stato preso nella presenza di sicurezza di london per molti anni ora allora non può essere l'unico che ha concoctato il pezzo non lo disminiscono troppo rapidamente Watson according a scotland yard l'unico è assolutamente intelligente per i criminali più grandi la presenza è solo un obiettivo proviamo un piccolo visit per vedere il signor Sheilman tomorrow ok adesso sei Sheilman cazzo cazzo ehm quindi dovevo andare alla chiesa prima o ok cazzo destro no non era questa scherzavo ehm deduction board vado cazzo eh ah andiamo vai vabbè il mortaccio ma ah senti guardiamola ah mannaggia sto tizio ah quella no non c'è più là mi ha fottuto il libro avevo un libro delle deduzioni questo è uno è disponibile ah cavolo dove vai il diverto del non so mai me l'ha rubato no ok Watson non è un ladro perfetto abbiamo appurato questa però non ci trova oh scusa eh ah ma io sono un coglione allora pensavo fosse un caso a parte allora sporca di sangue gli assassini hanno fatto bere al vescovo il contenuto della fiala il veleno dito il vescovo è staccato con le ditte dell'aggressore il vescovo è impazzito ehm ok esci che coglione che sono che coglione che sono ahah ehm 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 è il loro leader? Sì. Beh, ho incontrato i loro servizi di nuovo. Ho incontrato i loro a trovare l'adrezza del bici. Credo che è qui. Che cosa? Cos'è un'obbita? Hai trovato la informazione per cui il buon dottor Watson ti va pagare? Sì, dottor Holmes, era facile. Molto bene, ho capito. Ci sono alcuni pinni. Grazie, dottor Watson. L'unico che hai trovato vive vicino a Kensington. Cosa? 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 Non, signor Holmes, nessuno mi ha visto. Perfetto. Watson, dà il nostro vecchio amore un sacco per risposta per la sua destrazione. Ecco. Ma, ovviamente. Ho incontrato. Ho incontrato. Ho incontrato, Holmes. Non ti senti? Non, ho una constituzione excepcional. Ho incontrato. Ho incontrato. Ho incontrato. Ho incontrato. Ho incontrato, Watson. La notte sarà corta. Siamo tornata a la mattina. Ok. Wow, questo è un avvento reale. È incontrato. Mi paremmo più ricordate di storie. Voglio sapere cosa succede al prossimo. Continuare a leggere. E' un'entrazione. Ho incontrato. Ho incontrato. Ho incontrato. Ho incontrato. Ho incontrato. Ho incontrato. Cc. Ho incontrato. Ho incontrato. Ho incontrato. Hmm. I have located each place on our map of london Holmes, let me remind you that we still have not been officially instructed to investigate this affair Ah, well, we will just have to hide that small detail Beh, gg, dove è la mappa? Ok, possiamo andare Whitechapel Street Kensington Garden Prigione? Andiamo a prigione Eh, andiamoci Ok Mmhm Mmhm Ah, bello No 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 Nothing strange about it, Watson The name of this prison is linked with numerous failed escape attempts. As long as it stands, the criminals will fear it Mmhm Ha, what the hell Ha, what the hell Good morning gentlemen, are you expected? Ha No, but we wish to meet with one of your prisoners, Hans Schiedelman I'm afraid that at the moment that is impossible, access to the cells is controlled strictly, you can't go there without permission from the director What the hell? Then would you be so good as to announce us? I am Sherlock Holmes and this is Dr. Watson The famous Holmes and Watson. What an honor. My name is Brighton. Frank Brighton. I'm afraid that I can't announce you. I'm not allowed to leave my post under any circumstances. But I'm sure that the director won't refuse to see you even without an appointment. Do you see the corridor behind the reception? Follow it to the secretary's office. You'll find him there. Thank you, Warden Brighton. One last thing. Hans Schiedelman received any visits lately? None. And I'm sure because I've dealt with receiving visitors for several weeks now. Okay. I volunteer because it's a calm post to be in. We don't get many visitors and it gives me time to write. Just like you, Dr. Watson. I enjoy literature and the... Very good. Thank you. Huh. Is this... Okay. Okay. That was very impolite, Holmes. That man admire our work. You could have given him another time. Let's go and meet the director of the prison. Okay. Okay. Satage automatic. Eh, this? Sorry, but this area is prohibited without pass. Please leave. We must see the prison director quickly. Eh, okay. Ma dove cazzo era? Cleaning materials. Otherwise known as a broom cupboard. Nothing of interest here. Su me è dove... è dove fabbricano... i... i veleni. Poi. Danger... ok. Eh, ah, c'è questo? Staff cloakroom. Nope. The locker room. This is where the prison... Okay. Let's go to the secretary's office. Let's go... Eh, okay, vacci! È una rottura di padre come si muove sto personaggio perché... Non cammina sempre quando dici di camminare. Ah, ecco qui. Minf. Vai insomma. Good morning, miss. Oh, eh, excuse me. I dropped off. Good morning gentlemen. What can I do for you? I am Sherlock Holmes and this is Dr. Watson. We would like to talk to the director. I'll just go and see if he can receive you. Eh, vacci! C... cagna. Jenny Patterson. Tiredness, pale face, stiffness. I believe that the young lady is expecting a happy event. It would seem so. Incinta. Mmhm. Cos'è? Interessante. Perchè lui dice, hot tea? Del tè caldo! Sì! Magari dicono moglie e marito. Sì è un ucciderio, è stato qui per un tempo per ora, e non ha avuto contatto con il fuori, come potrebbe essere involontato in una situazione? E' quello che vogliamo trovare. E hai stato stato commissionato da Scotland Yard? Evidentemente. Ok. Molto bene, ho capito di te, mister Holmes. Io prenderò un passaggio che dovresti dare al Warden James nella sala guardia. Il te lo mostrerà nelle cellule. Grazie, direttore. Tenmi informato del vostro progresso. E se c'è qualcosa di altro, non esiste a lasciarmi sapere. Certamente dovremo fare. Legami familiari. Miss Patterson, hai il stesso nome che il direttore. Sei relacionato? Vieni, Watson. Qualcuno che potrebbe aver fatto il risultato dell'antropologia, potrebbe aver capito la similità tra la ragazza e il padre. Mr. Holmes è vero, io sono la mia figlia. Ma non mi piace parlare su questo. Penso che c'è bambino di essere accusato di ammettere. E' sicuro che è solo la qualità dei vostri che segnatevi questa posizione, Miss. Se hai dovuto cercare le potere della scotlandia, allora cosa ti dicono di usare la scotlandia? Ciao, ciao. 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 torriere questa roba poi il registro disabatto sardini in boc disinformation board is almost empty strange in giro di attività ok una palla che figata la parla per il piede ahahah no non andartene che cazzo ma perchè lo guardi da qua? ma che cazzo ah boh e levati watson ahahah 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 ahah 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 capisco and it will get his daughter in trouble he's not being very pleasant with her at the moment and i don't want to make things worse mhm tell me about the prisoners warden james we only have a few as you might be aware the days of this place are numbered therefore we no longer receive new prisoners mhmhm this is piano those who are already here are among the most dangerous in london we have three at the moment hans the rat killer and the flint brothers the flint brothers hmmm two rather simple minded maniacs who detest one another despite their relation lol massacred their parents and decapitated their neighbors took more than nine policemen to overpower them hey chicha bomby hey hey mhm mr. holmes i am a huge admirer of yours i have followed all your cases and successes with the greatest interest what enthusiasm have you ever thought of a career in the police force? ehhh i have thought about it it's my dream and i'm gonna try my chance once this establishment closes down i'm studying hard for the examination to get into the police school e di hmmm ok tabella di turismo di guardia vado io mmm because of the system of opening the doors Mr. Holmes as you can see they are equipped with a mechanical timer which answers to a code when the timer stops that is to say at the end of each watch the doors block automatically and the code is reset it is therefore impossible to open the doors without the new code and who has the code only the guard who takes the new watch he's the only one who can open the envelope that it's kept in he learns it by heart and destroys the message very clever but let's look at the limits of this procedure one false note and the system falls apart see you later Mr. Holmes so we can go oh what is this device must be the alarm ok here's the famous high security area bachel warden mackenzie at your service sir good morning warden I have a pass which allows me to speak with prisoner hunts very well it is the cell at the end to your left I'd advise you to walk in the middle of the corridor ah ciao hey brother lucky for you that they caught you before I rearranged your dirty little rat's face ahh ok detto ultimo a sinistra ciao oh hans shillman i require some information from you hmm so who do we have here the celebrated sherlock holmes himself do you know that for all the time i have spent rotting in here you are my first and only visitor i think this is cause for celebration a confrontation between two geniuses two extraordinary minds that pronunciation i'm not quite as great a chemist as you believe you are Mr. Shillman i will not say that you never were no it was certainly true once but you see while you are wiling away your days in here it appears that someone on the outside is at the point of surpassing you if that is not already the case yes i heard about that a chemical poison that eats away and the flesh and provokes hysteria i recognize talent when i see it but it's only a matter of time before i win back my laurels believe me what can you tell me that depends on what you can bring to me informazioni what do you want do you know why i am treated so harshly for my meals i am given nothing but a hunk of bread and even then not just any sort the get to the point never interrupt me where was i oh yes the bread did you know that with a little rye yeast just a pinch of moss certain cockroach secretions just enough light and damp with a few other ingredients that i will keep quiet about i succeeded in poisoning half the staff here unfortunately a little something was omitted which would have made the results fatal instead it merely caused acute attacks of stress and powerful hallucinations even so i got a great laugh out of watching them cry like babies when they saw their most primitive fears materializing before them you are a monster mr shielman thank you it wasn't a compliment but of course it was you others you ordinarily narrow-minded people you are afraid of anything that you cannot comprehend you call me a monster because what you find impossible to face this is just the slightest fraction of my genius uh if by monster you mean someone who is nothing like you then it is a compliment ben what do you need very little just something to write with you see my brain races like an engine with too many sorts i see them crackle and explode into thousands of formulae right in front of me what a torture not to be able to write them down what a hell to see them vanish just as quickly as they appear to me just bring me something that i can write with that's all that seems an easy enough request to fulfill yes i don't want a vulgar inkwell and a pigeon's feather nooo i need material fit for my talent i want my ink pen bring it to me and i will be happy to pass on to you a little of my knowledge of modern chemistry where is this? it was confiscated upon my arrival here i suppose it might be in my locker in the locker room leave me now and don't come back without my ink pen ehm ok see you soon Mr. Holmes this is crazy mhm mhm ok ma per questo episodio penso possa essere tutto io vi saluto ciao turuturututti wir folder not punch no mun curl gr mar